La prima volta che partecipai B2B Federlegno all'Interior Design Event di Federlegno. Gli Stati Uniti sono un mercato importante per voi, stiate investendo, perché siete qua? Gli Stati Uniti per noi sono un mercato molto importante, in cui siamo presenti da parecchi anni e sicuramente con delle prospettive molto interessanti. Siamo qui proprio perché abbiamo un interesse a sviluppare ulteriori partnership, soprattutto con studi di architettura, progettisti di alto livello, che ci possono permettere di inserirci come prodotti nelle loro principali costruzioni e nelle loro principali idee di progetti da sviluppare. Noi lavoriamo molto con gli architetti e progettisti, molto nel canale contract e sicuramente crediamo che gli Stati Uniti e questi tipi di incontri possano permetterci di ulteriormente incrementare la nostra presenza. Per cui voi vedete questi incontri, questi B2B, come un trampolino di lancio nel settore contract negli Stati Uniti e per il resto del mondo? Certo, noi l'abbiamo fatto sia per gli Stati Uniti ma anche per il resto del mondo, perché comunque questi incontri sono finalizzati non solo al mercato americano ma chiaramente anche a un mercato molto più globale. Il mercato del contract è sempre più quello fondamentale per un'azienda come la nostra, che è indirizzata e si sta sviluppando molto in quel settore, sia come main contractor che come subcontractor. Sicuramente il mercato mondiale ha delle richieste e delle esigenze molto molto importanti per aziende come la nostra.